Le sculture in gomma piuma dell'artista Gerardo Di Fiore sono state presentate in mostra a Gioiano, presso la biblioteca comunale. L'artista gioianese ha esposto dieci opere di medie dimensioni, realizzate in basso rilievo, accompagnate da installazioni. I lavori sono stati chiusi in delle teche in pexiglass, secondo l'abitudine dell'artista. Lo scultore delle singolari opere è stato ben lieto di ritornare a Gioiano, terra natia, e di ritrovare un territorio un po' cambiato. Non ci ha raccomazzato più niente. La mostra è nata in collaborazione con il comune di Gioiano sotto il patrocinio della Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanei Museo Madre e l'organizzazione dell'Associazione Culturale AR Project. Giuliano scelta come luogo d'arte da uno dei musei più importanti e influenti d'Italia. Devo dire che la presenza di questa biblioteca dove siamo per inaugurare il ciclo a Prodo a Giuliano, a cui appunto abbiamo dato il nostro patrocinio o appunto il patrocinio del Madre è il matronato, ci vede all'interno di un luogo che è già per questa comunità un luogo di cultura, che è già conosciuto e frequentato da migliaia di studenti, da migliaia di cittadini, e quindi essere qui vuol dire non venire per portare qualcosa che già non c'era, ma semplicemente per costruire una relazione con qualcosa che c'è già.